Ancora sbarchi e ancora morte sulla rotta del Mediterraneo centrale. Dall'inizio del 2023, otto morti al giorno. Tra stanotte e stamattina, a Lampedusa sono approdati 250 migranti a bordo di sei imbarcazioni. E sempre in mattinata, 50 migranti sono stati soccorsi in mare e condotti nel porto di Reggio Calabria a bordo della nave d'attilo della Guardia Costiera. Ma uno non ce l'ha fatta. Si tratta di un bimbo di quattro anni, forse di nazionalità nigeriana. Il suo corpo è stato recuperato a largo di Lampedusa, dove si è verificato il naufragio dell'imbarcazione di fortuna, a bordo della quale il piccolo viaggiava assieme ad altri migranti, tra cui la madre, per la quale è stata disposta all'assistenza psicologica. Non si conoscono al momento altri dettagli sulle cause del decesso, ma solo che la donna e il bambino facevano parte del gruppo di migranti non provenienti da Lampedusa, ma soccorsi in mare. La nave d'attilo, arrivata oggi a Reggio, aveva 811 migranti a bordo, che saranno accolti nelle strutture locali, per poi essere trasferiti in altri centri di accoglienza, secondo il riparto previsto dal Ministero dell'Interno. Intanto la Ocean Viking è in stato di fermo nel porto di Civitavecchia per un periodo indefinito. Ad annunciarlo è la stessa ONG che l'11 luglio, al suo arrivo al porto, assegnato dalle autorità italiane per lo sbarco di 57 migranti, è stata sottoposta a un'ispezione di controllo dello Stato di approdo.